Tutta la rabbia di Ubaldi va a conquistarsi questo pallone, si fa 40 metri palla al piede e poi spedisce la sfera nell'angolino laddove il portiere toscano Ricciarelli non può arrivare. È il gol del 4-1, è il gol che chiude i conti. Ricciarelli non può arrivare. Ricciarelli non può arrivare.